Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Silvia Toffannin è un'icona di stile per moltissime persone, ecco tutti i suoi look migliori da imitare a poco prezzo La conduttrice di Merissimo è una bellissima donna, nonché molto intelligente All'interno della sua trasmissione tratta di temi importanti, quali la malattia, i drammi familiari, ma anche storie molto felici La moglie di Pier Silvio Berlusconi conduce la trasmissione dal 2006 e da allora ha sfoggiato mollissimi look da togliere il fiato, che le hanno valorizzato il bellissimo corpo che le ha permesso di avere una carriera precedente da modella Silvia ha persino partecipato al concorso Miss Italia nel 1997, classificandosi in seconda posizione Nel 2001 ha esordito in televisione facendo la letterina al quiz di Canale 5 Passaparola Silvia Toffadini, tutti i look iconici.Ovviamente, la bellissima conduttrice si presenta sempre impeccabile in televisione, truccata e vestita in maniera meravigliosa Una sola volta il suo outfit non è piaciuto ma anzi, ha fatto scalpore Punto correva il giorno della memoria, il 27 gennaio, quando la donna è entrata in studio indossando un abito a righe verticali nere e bianche, per ricordare gli indumenti che indossavano gli ebrei deportati nei campi di concentramento Questa scelta non è piaciuta affatto ai telespettatori del programma, che hanno espresso il loro pensiero contrario attraverso i social media Solitamente però, Silvia è vestita in maniera impeccabile. Spesso, se non sempre, i vestiti che indossa la conduttrice sono particolarmente costosi, di marche importanti come Armani, Stella McCarny, Moschino, Lesilla e molte altre dal costo spropositato Punto è sempre possibile trovare outfit simili ad un costo più accessibile anche se gli abiti indossati dalla donna si aggirano sempre tra un range di 700 e 3.000 euro Punto è piuttosto semplice trovare indumenti simili a quelli che indossa la Toffanin nelle marche low cost e specialmente nei negozi fast fashion, che si trovano senza problemi nei centri commerciali Cosa ne pensati dei look della conduttrice di Verissimo? Fatecelo sapere lasciando un commento Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video